Ed eccoci ritrovati rigorosamente in diretta web mondiale direttamente dal nostro canale un canale di cui sono orgogliosissima il nostro style channel e tra l'altro anche il nostro canale su youtube lo posso ricordare ma certo allora basta entrare su youtube digitare style channel e rivedrete le repliche di tutte le nostre televendite clip dei nostri artisti le clip più cliccate come nel caso del mio graditissimo ospite che ancora non è inquadrato già vi anticipo che ho avuto il piacere di intervistarlo già una volta di presentarlo nelle edizioni dello scorso smart lab e soprattutto è un artista che di volta in volta ci dice questo quadro non è più disponibile questa opera non è più disponibile insomma un artista bravo signori piacevole un artista anche concettuale dietro ogni suo quadro c'è comunque una tematica importante un artista che ha una storia alla mia sinistra non ancora inquadrato Paolo Lenti Paolo ciao 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 buonasera a tutti ci rivediamo ci rivediamo ti vedo abbronzato ci siamo vissi in altre stagioni e compresa questa allora Paolo complimenti sinceri per il tuo successo un artista umilissimo un artista che però sta iniziando veramente a vendere nelle varie mostre allora raccontaci un po' che cosa stai combinando in questo ultimo periodo reduce da qualche mostra sì reduce da qualche mostra ha fatto un'esposizione che è durata un tre mesi in un'azienda vinicola ah bello bellissimo in teoria è una mostra molto difficile da realizzare proprio perché il pubblico che va in questo posto è un pubblico che non è interessato ai quadri ma è interessato al vino quindi tutta gente che viene per visitare le cantine però nel contempo vede i quadri e alla fine poi anche compra quindi gente che viene con l'idea di portarsi a casa del vino e si porta a casa anche un quadro io trovo che sia uno sposalizio molto bello tra l'altro voglio ringraziare l'azienda Garbole noi abbiamo abbiamo fatto anni Orsono proprio quello che tu hai fatto recentemente una bellissima mostra in questa azienda di Verona stupenda dove il vino è un'arte certo il vino è un'arte quindi i quadri sculture sposate comunque a quest'altra forma di arte quindi una mostra che è andata bene sì molto bene tra l'altro la titolare di questa azienda vinicola la Tenaglia che è dalle mie parti in Piemonte quindi a Serra Lunga di Crea è lei stessa un'artista una pittrice e quindi ama circondarsi oltre che dal vino e dai sapori anche dai colori bene sei una bravissima artista la invitiamo ai nostri studi televisivi magari per un'intervista senza impegno allora concentriamoci su Paolo Lenti su questo avete sentito fresco di successo allora Paolo io ho raccolto le domande più frequenti che ti riguardano devo doveroso da parte mia ti rubo soltanto un secondo andare a salutare i nostri affezionatissimi online quindi Anna Bella che ormai svetta nelle nostre pagine Adele da Monza e poi Federico da Palazzolo allora chiedo scusa a tutti gli altri a volte mi scrivete delle mail non così rose perché mi dite non dai mai spazio alle nostre domande è difficile ragazzi è difficile è difficile abbiamo a disposizione 20 minuti a volte mezz'ora tante volte meno ancora a noi piace far parlare l'artista quindi chiedo scusa abbiamo selezionato le domande di Anna Bella di Adele e di Federico tutti gli altri ci arriveremo e riusciremo a soddisfare le vostre curiosità inerenti Paolo Lenti allora hai tanti fan perlomeno nel nostro sito ma sono sicura anche altrove opera numero uno andiamo proprio nell'opera numero uno a parete e attraverso questa scelta c'è un'opera in particolare bellissima devo dire tutte ma una che ha carpito la mia attenzione e che vedremo allora attraverso questa scelta di opere Paolo andiamo a raccontare un attimo la tua storia soprattutto le tematiche sì allora l'opera numero uno si intitola la stagione dell'amore del 2015 quindi un'opera recente 45 cm per 33 420 euro la richiesta è un quadro dove ho voluto così sottolineare che la stagione dell'amore è sempre c'è sempre quindi è un quadro un po' autunnale in teoria uno dice ma è d'autunno invece l'amore primavera estate invece no anche con quei colori autunnali c'è sempre tempo per una stagione dell'amore ecco quindi hai toccato una tematica insomma cara a tutti noi ricordiamolo allora 45 cm per 33 signori solo 420 euro la richiesta vedete la forza di affordable art point è proprio questa andiamo a selezionare artisti bravi è un'arte piacevole quella che riescono a fare a prezzi estremamente accessibili perché è giusto così perché l'arte deve essere condivisa da tutti allora passiamo all'opera numero 2 Paolo andiamo a vedere l'opera numero 2 l'opera numero 2 si intitola l'ombra the shadow è un quadro anche questo del 2015 quindi recentissimo 30 per 60 eh tra l'altro 490 euro la richiesta che cosa racconta? niente racconta il nostro alter ego a me piace molto realizzare quadri dove c'è sempre un'ombra che caratterizza un pochettino il soggetto proprio perché è un po' un nostro alter ego nessuno di noi è realmente quello che sembra ha sempre qualcosa c'è sempre magari in tutti noi qualcosa di nascosto o che vogliamo nascondere e in questo caso qui mi sono divertito un pochettino a realizzare questa figura che viene apparentemente troncata e poi invece c'è quest'ombra che la ridefinisce e quindi è una sorta di bagaglio che tutti ci portiamo dietro quindi qualcosa che non so le esperienze quello che vorremmo essere che non siamo e un po' tutte queste cose qui allora ebbè cose importanti Paolo ricordiamo Paolo Lenti in diretta streaming web mondiale mondiale 490 euro 30 centimetri la base per 60 allora è una domanda Paolo abbiamo visto in molti tuoi dipinti dei volti, dei profili sono modelli che tu fai posare o sono frutto della tua immaginazione? allora dipende da tantissimi fattori a volte sono dei modelli a volte sono dei soggetti inventati a volte sono delle immagini che ho scattato a volte sono delle immagini che trovo in giro e quindi l'ispirazione può capitare in tantissime situazioni diverse ecco quindi non c'è uno schema predefinito spesso e volentieri quando ci sono dei modelli che posano per me chiaramente io li fotografo proprio perché diventa un pochettino complesso passare delle ore e ore a realizzare un'opera su un modello che deve stare di fermo e quindi per praticità scatto delle foto e poi realizzo l'opera allora velocemente io vorrei rivedere con l'aiuto dei miei camere l'opera numero 1 e l'opera numero 2 allora l'abbiamo vista la stagione dell'amore 45 cm per 33 lo vedete a parete 420 euro e poi l'opera numero 2 con il tema dell'alter ego aurora trattato lo vedete 30 cm la larghezza per 60 di lunghezza 490 euro lo sfondo specie il quadro numero 1 sembrano queste cose fluttuare comunque uno sfondo nero esattamente uno sfondo nero tipicamente caravaggesco non per accostarmi a quest'artista inavvicinabile però proprio perché lo sfondo nero aumenta la tridimensionalità dell'opera e soprattutto la isola a me piace che chi guarda il mio quadro osservi il soggetto e si concentri su quello quindi non sia distolto da uno sfondo particolare che magari evita di cogliere certi particolari che io voglio invece che vengano colti colti certo allora andiamo a ricordare Annabella da Giuncarico che ti fa i complimenti grazie ci teneva affinché noi ti porgessimo appunto le sue congratulazioni e noi siamo d'accordo con te Annabella esattamente come Adele Dammonza che e noi lo leggiamo questa richiesta ti fa i complimenti dice sia per la piacevolezza delle sue opere che per le quotazioni di mercato è questa la nostra forza il rapporto tra qualità e prezzo opera numero 3 la mia preferita che non a caso ho voluto sulla parete rosa guardate che bella nel nostro studio qui in diretta ci sono altri artisti Paolo lo può confermare che hanno magari già fatto un'intervista sono qui per parlare per visitare comunque i nostri showroom e Paolo ha preso gli artisti i complimenti da un artista ha detto proprio in modo sincero complimenti e questa è un'opera bella questa è un'opera da brivido opera numero 3 si intitola L'Alveare è un'opera che era un po' di tempo che non facevo delle opere di queste dimensioni a me piace spaziare dalle dimensioni più piccole alle dimensioni più grandi ultimamente avevo fatto delle dimensioni un pochettino meno estese è un quadro che è così mi è venuto in mente questa è colpa di mia figlia che fa danza c'è proprio un esplicito rifiuto e allora niente durante uno dei saggi o le prove del saggio finale vedere tutte queste ragazzine che confabulano che parlano che discutono mi ha fatto venire in mente un quadro del genere l'Alveare proprio perché sembrano tante api che parlano sottovoce quindi c'è questo brusio di fondo che le contraddistingue è vero è vero le ballerine qui si vede danza classica poi abbinano la danza classica al moderno mi ricordo molto mia nipote anche mia nipote fa la stessa disciplina la stessa arte perché la danza è questo opera numero tre l'Alveare vedete come è da un semplice da una semplice scena poi vista dal nostro artista si crei poi un'opera vera e propria 90 cm per 120 giustissima la quotazione di mercato questa volta siamo sopra le 1000 euro 1150 euro molto bella la scelta dei colori è reale Paolo dell'immagine che hai visto o l'hai no no questi sono i miei colori i corpi sempre gialli perché appunto i corpi emanano la luce quindi trasmettono luce quindi sono molto gialli e poi i miei rossi preferiti e poi li ho inseriti con questi azzurri proprio per dare un contrasto maggiore ecco per una situazione di contrasto cioè semplicemente per una questione ottica visiva ok allora l'alveare bellissima è la mia preferita non sapevo la storia lui ve lo può dire non sapevo così proprio per pathos per impulso proprio per amore ci si innamora a prima vista io mi sono innamorata di quest'opera l'alveare 90 cm per 120 signori Paolo Lenti qui con noi gli studi di affordable art point in diretta web mondiale la quotazione di mercato dell'opera numero 3 è 1150 euro a proposito di volti a proposito di ritratti alcuni nascono dalla mente dall'immaginazione del nostro artista andiamo a vedere l'opera numero 4 la vediamo eccola Paolo tu la vedi nello schermo di fronte a noi eccola qui questo sguardo intenso allora Miriam è un'opera che nasce da un'opera teatrale di Ari De Luca Il nome della madre e quindi mi piaceva rappresentare questa figura di Maria una Maria un po' particolare molto volitiva con questo sguardo che è molto particolare perché se uno prova a muoversi su se stesso la figura continuerà sempre a guardare un po' una sorta di gioconda esattamente reinterpretata bellissimo anche qui i tuoi colori le vediamo i colori sempre gialli è il segno di Paolo Lenti signori è molto identificabile e lo dico questo è un complimento un'artista che lascia il proprio segno al di là della firma che poi ovviamente del suo autografo sul quadro proprio per questo stile inconfondibile quindi riconoscibilissimo 55 cm per 55 è l'opera numero 4 600 euro la richiesta e andiamo a vedere l'opera numero 5 questo formato affusolato 15 cm già ve l'anticipo per 45 questa rosa il titolo è Riflesso sul Muro molto particolare l'ombra a metà non tutta di questa rosa sì anche questa è un'opera molto del 2015 quindi recentissima anche qui abbiamo il tema dell'ombra quindi sempre un tema che mi contraddistingue spesso e volentieri nelle mie opere e mi piaceva quest'idea di questa rosa che viene soltanto messa in evidenza da metà quadro in giù e dove il vetro del vaso è appena appena accennato è bellissima mi piace proprio questa caratteristica quest'ombra a metà sembra quasi lascia un attimo di sospensione di riflessione 330 euro la richiesta allora io chiedo alla mia regia questo attenzione un artista che vende signori belle le sue opere di contenuto avete sentito ma soprattutto la sua forza è la qualità prezzo quindi opere che stanno entrando in collezioni private molto particolari andiamo a farci una carrellata veloce mancano pochi minuti allora Paolo andiamo a rivedere la stagione dell'amore 45 cm per 33 l'opera numero 1 420 euro la richiesta l'opera numero 2 qui un'attenta riflessione sulla natura proprio dell'uomo sulla psiche eccetera eccetera 30 cm per 60 490 euro la richiesta signori di Paolo Lenti questo è un artista che siamo fieri di avere nelle nostre scuderie di affordable art point l'opera numero 3 che a me personalmente piace tantissimo mi sono innamorata immediatamente lo spunto è stato sua figlia che è una ballerina opera numero 3 l'alveare è vero questo brusio sembra sentirlo osserviamo questo quadro e sembra sentire il brusio si confabula prima della messa in scena prima che il sipario si apra oppure a termine proprio di un'esibizione di un balletto opera numero 3 90 cm per 120 dimensioni sostenute giustissima la quotazione di mercato di mercato 1150 euro e poi l'opera numero 4 anche qui tratto da ecco l'andiamo a vedere i colori di Paolo Lenti 55 cm per 55 Miriam il titolo 600 euro la richiesta e poi molto particolare l'abbiamo lasciata per ultima ma non certo per minone importanza questa rosa con la sua ombra con il suo riflesso tra virgolette semplicemente a metà un'opera che include comunque una certa include una certa riflessione un attimo di sospensione nel riflettere opera numero 5 45 cm per 15 riflesso sul muro 330 euro la richiesta Paolo dove è che ti troviamo in un imminente futuro adesso il 4 di settembre sono a Puntala oh lo ricordiamo bravissimo Paolo non c'era niente di predefinito la nostra mostra di Affordable Art Point a Puntala ringraziamo Andrea Orler per questo le nostre tre gallerie in un punto strategico quindi ti vediamo in una collettiva a Puntala io sarò presente con due quadri con Pensando a Vincent e Prime Promesse ok e poi a dicembre preparo la mostra in Alessandria una nuova mostra quindi un nuovo personale ecco allora sentite è un artista che non si ferma mai Paolo Lenti grazie infinite Paolo di essere stato il nostro ospite grazie grazie a voi allora potete rivedere la replica sui nostri canali YouTube su Style Channel Orler in particolar modo chiedo ancora scusa a tutti coloro che hanno posto delle domande e non ho potuto soddisfare con le risposte del nostro artista ci arriveremo con calma grazie infinite pochissimi minuti di pausa e poi come sempre ritorniamo rigorosamente in diretta web mondiale da Alessandria e tutto grazie infinite grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti